Nella legge di bilancio sono previsti aumenti fino al 100% per sindaci e assessori che vedranno lievitare i loro compensi in busta paga. In un capoluogo come Remona con una popolazione tra i 50 e i 100.000 abitanti lo stipendio del sindaco a partire dal nuovo anno passerà da 4.509 euro mensili a 6.850 euro lordi per arrivare a 9.660 euro mensili nel 2024 pari a 115.920 euro annui. Un aumento quindi del 114%. Lo stesso trattamento è previsto per il vice sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio comunale. Aumenti che peseranno sulle tasche dei cittadini i quali non sono per nulla d'accordo. Perché non ne prendono abbastanza di soldi. Noi pensionati non vediamo 2 o 3 euro all'anno di aumento. Vedo situazioni di disagio un po' ovunque e di fronte a queste cifre in effetti rimango un po' sbalordito. Le pensioni sono sempre quelle. Non ho aumentato. Io 20 anni ho perso il 40% dei poteri d'acquisto. Sono le cose che vanno in Italia. Praticamente chi comanda ha il potere di fare questo e gli altri devono subire. Che beneficio ne trova la città di questo? Poi praticamente qua non c'è nessun sviluppo. Non c'è nessun sviluppo. Siamo un paese, non una città, un paese morto. Secondo lei si meritano questi aumenti? No, assolutamente no. No. Per me no. Sono esagerati rispetto a quello che c'è. C'è gente che non arriva alla fine del mese. C'è gente che conosco io, gente che aveva lavori, ha dovuto smettere, va a mangiare alla casa dell'accoglienza e loro si fanno questi aumenti. A non essere d'accordo è anche il consigliere comunale di minoranza Alessandro Zagni. Nei grandi comuni ci troviamo all'ulteriore paradosso che quando gli aumenti saranno a regime i primi cittadini guadagneranno di più dei manager delle grandi aziende che creano posti di lavoro, creano ricchezza, mentre invece i sindaci spesso sono persone poco competenti che mirano solo al consenso e non sono neanche dei buoni amministratori di condominio.